Nei bugiardini dei vaccini, quelli con i virus inattivati, è scritto che ci vogliono dalle 4 alle 6 settimane di convalescenza. Vuol dire che in quel periodo i soggetti vaccinati sono soggetti che possono contagiare gli altri. Quindi i bambini appena riceveranno le vaccinazioni andranno a scuola e potranno contagiare gli altri. E poi si dirà che sono i bambini non vaccinati, che sono gli untori. Allora io domando a questo governo, chi è che vigilerà su questa cosa? Quali saranno i genitori che tirano a casa 6 settimane i bambini? E c'è qualcuno che si occuperà di vigilare su questa cosa? Chi è che ci tutela noi? E tutti i bambini che sono in lista d'attesa per essere vaccinati? Chi li difende? Questo decreto è pieno di queste contraddizioni, è una vergogna, è va fermato, è gravissimo, è un attentato a una generazione intera. Vi prego fermatelo.